Ciao a tutti amici di Playa Latina Web TV, un caro saluto a tutti gli amanti della musica e del ballo, bentornati nella nostra rubrica LISCIO, sì grazie, e siamo ancora con due ospiti grandissimi che sono Raul e Mirko Casadei. E io questa puntata la vorrei dedicare proprio ad un argomento che sottolineo fin dall'inizio, ovviamente è un mio parere, però secondo me Raul ha avuto il pregio di trasformare una musica che era prettamente popolare, quindi di zona, di nicchia, trasformarla in una musica conosciuta in tutto il mondo. E Raul, com'è stata questa evoluzione? Le scelte, le difficoltà, le idee, com'è stato questo processo? L'Orchestra Casadei ha portato in giro per l'Italia, in giro per il mondo, sempre questa voglia di ballare, voglia di essere felici, voglia di essere positivi, di essere solari, e la gente ci amava, tant'è vero, siccome noi parlavamo sempre delle nostre canzoni, ciao mare, t'aspetto cesenatico, ritorno a Rimini, parlavamo sempre della riviera, la gente affollava sempre di più sulla nostra spiaggia. Io li invitavo addirittura dal palco, se passate dal cesenatico venite da me, vi offri a San Giovese, ma c'era una processione di gente che passava veramente. E la gente si è innamorata della Romagna, vedendo questa allegria, questo tu sei la mia simpatia, questa voglia di ballare il liscio 70, queste storie qui. Tant'è vero che giornalisti famosi, tipo Sergio Zauri, che tutti conoscete, Sergio Zauri per esempio ha scritto che Raul Casadei ha fatto più pubblicità, più promozione, ha contribuito di più al turismo della nostra terra, più addirittura di personaggi mondiali, tipo Fellini e tanti altri grandiosi, che però magari sono stati meno nazionali popolari e meno trascinanti, ma pur importanti, quindi io sono orgoglioso di aver dato alla nostra riviera una bella spinta, di aver portato tanta gente che si è innamorata della Romagna, dei romagnoli e della nostra spiaggia. Io sono un po' arrabbiato, oserei dire incazzato con gli addetti ai lavori che non prendono in vera considerazione questo ballo nazionale popolare che è conosciuto un po' in tutto il mondo. Per esempio ci sono delle parti d'Italia dove non è così, a Napoli la loro musica la curano moltissimo, la lanciano dappertutto. Per esempio nel Salento stanno lanciando a livello mondiale una musica che non conosce quasi nessuno, la pizzica alla Taranta che sono cose belle, quelle sì che sono ruspanti, ma non c'è da vergognarsi perché queste musiche nazionali popolari ruspanti sono la vera identità degli italiani anche a livello regionale. Quindi amici, datevi una mossa, noi vogliamo portare il ballo italiano in tutto il mondo. Mirko, la tua idea al riguardo? Appena entrato nell'orchestra Casadeo ho subito avuto un obiettivo, quello di portare la musica oltre confine, fuori dall'Italia. Raul non l'ha mai fatto per paura di prendere l'aereo, nonostante le grandi proposte che ha avuto negli anni 70. Io invece ho cercato in tutti i modi di portare questa musica, questa tradizione e oltre confine. Ma questa evoluzione che c'è stata si è riferita unicamente al modo di proporre l'orchestra o è stato proprio un cambio di sonorità, anche di introduzione di nuova strumentazione all'interno della band, dell'orchestra stessa? Raul? Il liscio, il liscio era un fatto regionale, badiamoci chiaro, il vaselino suonato, la fisermonica, il clarinetto, era un fatto tipico, un po' locale. Poi invece con… anche se l'aveva preso poi in giro per tutta Italia con successo, però siccome è scoppiato in riviera il turismo, mi sono trasformato, evoluto anche per voglia di evoluzione, perché ogni artista dentro di sé ha voglia di andare avanti, non si può fermare come un disco rotto a ripetere sempre la stessa frase. Io amavo la musica solare, poi ho sentito Bob Marley con la vera musica solare che è quella giamaicana, così. E ho ideato questa parola, la musica solare, fra l'altro è una parola che è rimasta nel cuore della gente e oggi si usa tantissimo anche per la musica italiana. Per esempio si dice che Pino Daniele faccia la musica solare, non la mia. Perché solare vuol dire spiaggia, riviera, estate. E io assieme al clarinetto, al sax, alla batteria, ho messo a giocare chitarre mediterranee, le chitarre che sanno tanto di Spagna, di Andalusia, le chitarre grece, mandolini, suoni dolci, il mug, violini, in modo che la musica è diventata più aperta, diciamo più internazionale, più giusta per fare da colonna sonora alle vacanze con gli amori che nascono, gli amori che muoiono e la gente che si diverte. Mirko, parliamo quindi di tradizione mantenuta, salvaguardata, ma anche di introduzione all'innovazione, a contaminazioni per far sì che questa musica fosse sempre fresca e sempre alla portata di tutti gli ascoltatori. Che cosa ne pensi? Tradizione e innovazione è la mia parola d'ordine e penso che sia stata la parola d'ordine sempre dell'Orchestra Cazzadei, da secondo a Raul e io in qualche modo ho così preso questo messaggio di rinnovamento. 80 anni di storie si possono fare solo attraverso un rinnovamento nel tempo. Il pop folk è la mia musica e la mia musica vuole attingere dal folk, dalla musica tradizionale, ma con un messaggio e delle sonorità molto più vicine al pop. Per questo pop folk. Questa volta l'ultima domanda la faccio a Mirko perché vorrei continuare a parlare appunto delle innovazioni che ci sono state e vorrei parlare anche della parola contaminazione. Ne ho sempre sentito parlare. In realtà la musica dell'Orchestra Cazzadei è sempre stata piacevolmente contaminata da tanti gruppi davvero importanti che comunque l'hanno resa più vicina a varie generazioni. Mirko, parlami di queste contaminazioni. Le contaminazioni sono state tante. L'Orchestra Cazzadei ha incrociato sul palco tanti artisti nazionali e internazionali. Già Raul aveva incontrato Elio Le Storie Tese e Pittura Fresca, Gloria Gaynor, il mitico Tito Puente, il re del mambo. Io ho avuto delle belle esperienze. Sono nate belle amicizie sul palco con Kit Creole and the Coconut, Mario Reyes dei Gypsy King e poi una bellissima esperienza con il mitico Claudio Baglioni. Lui ha cantato tutte le nostre canzoni e altri successi degli anni 70. Insomma, è un bel modo di comunicare e di fare conoscere a più gente la nostra musica. Un grazie a Raul e a Mirko Casadei di essere stati anche oggi con noi ed averci raccontato un po' della loro storia e della loro passione. Io vi invito a visualizzare i videoclip delle canzoni che abbiamo scelto per voi per questa puntata che trovate elencati qui sotto. Vi aspetto ovviamente alla prossima puntata, sempre per parlare con i nostri due fantastici ospiti. Grazie a Raul, grazie a Mirko e grazie a voi per essere stati con noi. Alla prossima, ciao!